Ciao da MotolookTV, il canale di YouTube che è sempre in moto per te, io sono Michele e questo è Caberg Levo. La prima recensione di quest'anno è sicuramente quella che io aspettavo di più. Finalmente il nuovo casco apribile in fibra composta è realizzato da Caberg, il Levo. Casco alto di gamma, casco con tantissime qualità, sia di sicurezza che di comfort, ma anche tanta innovazione. Calotto è completamente realizzata nella galleria del vento e studiata molto molto bene a livello di aerodinamica e flussi dell'aria. Parliamo proprio della calotta esterna che è realizzata in due misure, quindi per andare ad adattarsi al meglio alla morfologia del pilota, e sei misure di vestibilità, dall'extra small fino alla doppia XL, quindi una taglia per tutte le teste. Abbiamo parlato di aerodinamica, parliamo di ventilazione. Molto bella questa presa d'aria frontale, si apre verso l'alto, una caratteristica determinante per andare a prendere i flussi di aria in caduta. Cosa significa? L'aria sulla nostra moto non ci prende sempre direttamente. Prima colpisce la moto, si alza e poi si abbassa. Questo tipo di presa d'aria va a prendere proprio quei tipi di flusso per far sì che la ventilazione dentro al casco funzioni al meglio. Ventilazione superiore, regolabile su due livelli, la portiamo indietro, l'apriamo, la portiamo in avanti e l'andiamo a chiudere. Stabilizzatore posteriore, spoiler, e poi nella parte bassa due scarichi, anch'essi regolabili su due livelli, per andare a far uscire l'aria calda e umida presente all'interno della calotta stessa. Caber Levo sicuramente un casco alto di gamma, quindi piccolo, leggero, pesa soltanto 1500 grammi, disponibile in diverse varianti grafiche e anche nella variante full carbon, che abbassa il peso fino quasi a 1400 grammi. Un valore davvero record per un casco apribile. Parliamo adesso della visiera, Panoramic Visor, tantissimo campo visivo, anche qui una soluzione quasi unica per il mercato. Apriamo la visiera, scatti molto ben contrastati, abbiamo questi due labbri che sono realizzati all'interno della visiera stessa. Visiera omologata UV400, predisposta per andare a montare un pilloc antiappannante, che troviamo già di serie all'interno della confezione. Come vedete la visiera funziona davvero bene, tantissimo il campo visivo, arriva in parte bassa, si sigilla e si va completamente ad adattare alla guarnizione perimetrale che troviamo realizzata sul casco stesso. Lateralmente troviamo il Double Tech Visor System, ovvero il sistema che ci permette di gestire l'occhiale interno. Anch'esso è omologato UV, quindi è un ottimo filtro solare e anch'esso è realizzato in uno trattamento antiappannante. Aprendo il foro visiera notate quanto è il campo visivo all'interno di questo casco. Se molti caschi apribili hanno un difetto, uno scarso campo visivo. Non è assolutamente il caso del Caber Levo. Tantissima visibilità verticale, ma anche orizzontale, quindi riusciamo a vedere molto bene cosa succede intorno a noi a bordo della nostra moto. Richiudiamo il casco, andiamo a vedere il sistema di apertura, molto importante. Abbiamo un bottone centrale, facilissimo da trovare, una molla molto ben contrastata, ci dà sensazione di solidità, la mentoniera va in parte alta e si blocca. Ovviamente è presente la doppia omologazione, PJ omologato sia come jet che come integrale. E qui abbiamo il comando per eventualmente andare a bloccare la mentoniera in parte alta. Interni completamente estraibili e lavabili. Sono realizzati con due tessuti, un tessuto più morbido a contatto della pelle, e poi uno traforato per gestire meglio la traspirazione. Chiusura micrometrica e poi un bordo collo molto molto ampio che fa sì che il casco venga insonorizzato molto molto bene, ci va a isolare perfettamente. E in più, questi due labbri che si prolungano sotto al cinturino per migliorare il comfort. Come vi ho detto, tutti gli interni si possono togliere, si possono lavare. Sono perfettamente predisposti per andare a montare un sistema interfono. Tanto spazio per montare gli auricolari, spazio per fissare il microfono, e poi una calotta realizzata in modo molto auricolare qui di fianco, per andare a fissare senza problemi qualsiasi centralina aftermarket. Una nota importante di questo casco, calzata omogenea. Cosa significa? Che sia da aperto che da chiuso la calzata non cambia. Molto spesso i caschi apribili, quando sono aperti, ci danno una calzata. Li richiudiamo e la calzata cambia completamente. Non riusciamo a capire a volte neanche qual è la misura corretta. In questo caso questo problema non lo abbiamo, perché sia da aperto che da chiuso la calzata di questo casco rimane costante. Importante, una volta aperta la visiera, riusciamo a fare infilare senza problemi un paio di occhiali all'interno, perché qui i guanciali sono stati svasati, è stato creato uno spazio appositamente per le stanghette. Caberg Levo, un casco apribile che io aspettavo davvero, che secondo me sarà uno dei successi di questa stagione per chi cerca un casco apribile alto di gamma. Se la recensione vi è piaciuta, un bel mi piace. Se non vi è piaciuta, amici come prima, e come sempre non posso che ricordarvi, provate, provate, provate la qualità dei prodotti Caberg, ma soprattutto venite a provarla nel nostro punto vendita motolook di Voghera. Ciao e alla prossima recensione! Ciao e alla prossima recensione!